Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vediamo quelli che sono gli strumenti fondamentali per iniziare a fare cartamodelli. Questo è il primo video che faccio sugli strumenti per fare cartamodelli e vi parlerò dei tre che ritengo fondamentali avere quando iniziate. Ce ne sono altri che potete prendervi in un secondo momento e su cui potrei anche fare un video se siete interessati. Vi ricordo che nel mio canale ho anche una playlist in cui insegno le basi del cucito se siete anche interessati al cucito e ho già realizzato anche una serie di video in cui mostro come fare i cartamodelli base se volete già iniziare a fare dei cartamodelli. Ve li lascio sotto in descrizione se volete darci un occhio. Comunque iniziamo con quello che è in assoluto lo strumento più importante che è la carta per cartamodelli. Allora qui si apre un mondo perché ci sono svariati tipi di carte e ora vediamo un attimo quali tipologie potete trovare in commercio. Sostanzialmente direi che ce ne sono di due tipi, quelle più leggere e trasparenti e quelle invece più spesse e meno trasparenti. La prima, quella leggera, è la classica carta velina, è la più semplice da trovare infatti in tutte le mercerie ne hanno e di solito la vendono in fogli. Ha una grammatura di circa 30 grammi. Essendo una velina è abbastanza trasparente e si riesce a vedere attraverso il che può essere un vantaggio se questa carta vi serve principalmente per copiare dei cartamodelli. Non so se siete abituati a prendere i cartamodelli dalle riviste quindi di fatto quello che dovete fare è semplicemente copiarvi il vostro cartamodello della vostra taglia. Questa carta probabilmente può essere la soluzione migliore per voi. Ve la faccio vedere. Qui come vedete appunto me l'hanno venduta in fogli. Tenete conto che essendo questa una carta fina è anche più debole ed è più facile da rompere. Quindi io vi sconsiglierei di utilizzarla se dovete fare dei cartamodelli da zero o se dovete modificare i cartamodelli preesistenti perché quando si fanno dei cartamodelli da zero c'è bisogno di scrivere sulla carta, cancellare, tagliarla, unire pezzi con lo scotch e quindi è molto più facile romperla. Se quindi dovete fare cartamodelli da zero o modificare dei cartamodelli preesistenti io vi consiglio di optare per il secondo tipo di carta che è quella più spessa e che ha una grammatura di 50 ed è anche quella che mi vedete di solito usare nei miei video. Ve la faccio vedere. Ve la metto a confronto con la carta velina giusto per capire la differenza. Immagino che anche da schermo possiate vedere che qui praticamente vedete il tavolo attraverso, anzi facciamo con la mia mano, mentre con questa non si vede quasi niente. Questa carta più spessa ha il vantaggio di essere più resistente e quindi potete tranquillamente unire pezzi con lo scotch, tagliare, fare segni, cancellare tante volte senza problemi. E è anche leggermente trasparente quindi riuscite comunque a copiarvi delle linee o a ricalcare dei pezzi di cartamodello se vi serve farlo. Diciamo che se dovete fare solo quello semplicemente vi consiglio di optare per la velina. Se invece ricalcare dei pezzi di cartamodello vi succede qua e là per necessità per fare uno nuovo, ma non è che fate solo quello, allora vi consiglio caldamente di optare per una carta un pelo più resistente. Entrambe, sia la carta leggera sia quella più spessa, esistono nella variante bianca senza alcun segno come appunto vedete questa velina e poi le potete anche trovare con delle griglie di riferimento tipo appunto questa che uso io di solito. La griglia come vedete è formata da punti di riferimento disposti perpendicolarmente e parallelamente l'uno con l'altro, il che significa che è molto utile quando dovete fare dei cartamodelli da zero, quindi di solito si disegnano le griglie iniziali che sono di fatto formate da linee parallele perpendicolari. Avere una carta di questo tipo vi permette di tracciare queste linee senza star lì a misurare, cioè ad occhio voi vedete se la linea che avete tracciato è parallela o perpendicolare perché semplicemente basta seguire le linee che sono già sulla carta. Diciamo che avere questo tipo di carta velocizza tantissimo il lavoro. Mi avete chiesto in tanti dove potete trovare questa carta che utilizzo io. Allora questa nello specifico è una carta che utilizzavo a scuola e della quale ho fatto un sacco di scorta quando ho finito. La scorta però anche per me è finita da poco e quindi mi sono attivata per trovare un rivenditore online che appunto rivendesse un tipo di carta simile a questa o uguale, anche per poterlo consigliare a voi appunto perché in tanti me l'avete chiesto e ci sono riuscita, l'ho trovato. È un negozio su ebay, vi lascio tutti i link sotto in descrizione. Ovviamente prima di consigliarla a voi ho deciso di fare un acquisto io e di provare la carta e vedere se era effettivamente simile alla mia e di fatto sono quasi uguali. Questa qui è la carta che appunto ho trovato su ebay. Hanno la stessa grammatura quindi 50 e lo stesso livello di trasparenza che sono le due cose che mi interessano di più. I punti della griglia sono distanziati in modo un po' diverso perché su quella di ebay sono distanziati un inch mentre su quella che avevo prima sono distanziati circa due centimetri. Ma diciamo che non mi è mai interessata la distanza che c'è tra i punti perché io li considero nella mia testa come delle linee e come dei riferimenti per fare linee. Poi per misurare queste linee uso sempre una riga o qualcos'altro. E l'altra differenza come potete vedere è che nella carta nuova ho delle x e dei cerchietti e nell'altra avevo dei numeri e delle lettere però onestamente non mi cambia assolutamente nulla. Una cosa bella di questo rivenditore è che dà la possibilità di avere la carta in rotoli anziché in fogli piegati il che è una bella cosa perché vi arriva che è già liscissima e pronta per essere utilizzata. Se invece comprate della carta che è piegata in fogli questo significa che non è perfetta fin dall'inizio che comunque dovete dargli una stirata veloce prima di usarla per fare cartamodelli. Perché sì la carta se ha delle pieghe sarebbe meglio stirarla prima di fare dei cartamodelli. Ve le metto a confronto un attimo per mostrarvi il livello di trasparenza delle due carte ricalcando appunto un cartamodello. Con la carta velina beh si vede praticamente quasi tutto come potete notare. Con questa che è quella che usavo a scuola vedete che comunque le linee sotto si vedono un po' quindi se anche volessi ricalcare un cartamodello non avrei problemi a farlo. E con questa che è quella che ho trovato online si vede allo stesso modo della seconda carta non cambia assolutamente nulla. Passiamo ora al secondo strumento che è il cartone. Allora quando si utilizza il cartone? Il cartone si utilizza per mantenere intatto nel tempo un cartamodello diciamo importante. Un cartamodello può essere ricopiato sul cartone una volta che è definitivo, sistemato, senza difetti e se presumiamo che ci serva spesso in futuro. Di solito si copiano nel cartone i cartamodelli base come il cartamodello base della gonna, del pantalone, del corpino eccetera perché sono cartamodelli che usiamo spesso come basi per fare degli altri capi e quindi se fossero solo lasciati su carta semplice rischierebbero di rompersi con il tempo a forza di ricopiarli. Il cartone invece è molto più resistente della carta normale. Quello che ho sempre usato io e che avevo preso a scuola aveva una grammatura di 200 grammi. Ovviamente non è trasparente ma in questo caso non è necessario che lo sia. Infatti una volta che avete il cartamodello base fatto sul vostro cartone per ricopiarvelo sulla carta normale basterà semplicemente appoggiarlo sopra e tracciare tutti i bordi con la matita e poi da lì fate tutte le modifiche che volete. Il cartone che ho sempre utilizzato a scuola era questo. Questo è un cartamodello base della gonna tra l'altro. Era beige da un lato e bianco dall'altro. Anche di questo ho praticamente finito le scorte e quindi ho cercato online se trovavo dei rivenditori che avessero un qualcosa di simile a questo e per fortuna il rivenditore che vi ho nominato prima della carta ha anche un cartone molto simile e anche quello ho deciso di testarlo prima di consigliarvelo. E sono super contenta perché ho trovato sia un cartone sia una carta molto simili a quelle che utilizzavo prima. Questo è il cartone appunto che ho trovato da rivenditore di ebay. È un pelo più spesso di quello di prima ma lo so solo perché ho letto le specifiche di entrambi se no probabilmente non me ne sarei neanche accorta. Quindi questo di grammatura è 250 mentre l'altro era 200 giusto per darvi un riferimento. L'altra differenza come vedete è che è beige da entrambe le parti ma personalmente non mi cambia assolutamente nulla. Vi lascio un link anche a questo cartone sotto in descrizione. Passiamo ora all'ultimo strumento che vediamo oggi che è la riga. Allora senza una riga è difficile fare cartamodelli e ci sono righe e righe. Partiamo dalle più semplici che sono quelle che si usavano anche a scuola e che probabilmente tanti di voi hanno già in casa. Più lunghe o più corte non importa comunque per capirci tipo questa. Questa era anche una lunga perché appunto è 50 centimetri. Comunque sono di metallo o trasparenti tipo questa più corte più lunghe e di solito hanno i numeri per misurare solo su un lato o al massimo anche sotto. Diciamo che sono righe e quindi svolgono il loro scopo principale che è quello di tirare linee dritte e di misurare e se non avete altro in casa potete anche iniziare usando queste. Però queste sono righe generiche e non sono quelle pensate apposta per fare cartamodelli che invece hanno una caratteristica a mio parere fondamentale che è l'avere una griglia in centimetri segnata su tutta l'area della riga. Vi mostro quella che uso io così mi spiego meglio. Come potete vedere questa ogni mezzo centimetro ha una riga della griglia e quindi questa griglia è formata da linee parallele e perpendicolari distanti mezzo centimetro l'una dall'altra che coprono appunto tutta l'area della riga. E a cosa serve questa griglia? Praticamente serve per mettere i margini di cucitura ai cartamodelli in modo assai veloce. Vi mostro come viene utilizzata. Allora diciamo che devo ricopiarmi questo cartamodello e vi faccio vedere come metto i margini di cucitura. Dovrei metterci dei pesetti per tenerlo fermo ma facciamo finta che ci siano. Traccio tutto il contorno. Quando poi devo mettere i margini ipotizziamo che li facciamo di un centimetro. Con la classica riga normale avreste dovuto fare così quindi misurare e segnare un centimetro in vari punti e poi congiungerli. Con questa riga invece semplicemente la appoggiate in modo che il bordo del cartamodello che c'è sotto sia allineato al primo centimetro segnato nella riga e tracciate quindi il margine. Stessa cosa nelle curve spostate la riga in modo che la linea che c'è sotto del cartamodello sia allineata alla linea del primo centimetro della riga e così via. E così avete il vostro cartamodello che ha un margine preciso di un centimetro tutto attorno. Inoltre è importante che la riga che usate sia trasparente perché questo vi permette di vedere cosa c'è sotto alla riga quando la state usando quindi che parti del cartamodello state coprendo e così sapete più velocemente dove dovete fare i segni. È una cosa molto banale in realtà però ve la dico lo stesso perché magari uno non ci pensa. Quindi se avete intenzione di iniziare a fare cartamodelli io vi consiglierei di procurarvi una riga di questo tipo perché rispetto a quelle normali vi velocizza molto il lavoro. Io questa qui ce l'ho da quando andavo a scuola e purtroppo online non sono riuscita a trovarne una uguale però ne ho trovata comunque una molto simile che ha la griglia trasparente e tutto quanto. Vi lascio un link sotto in descrizione. E niente per il video di oggi è tutto. Scrivetemi nei commenti qui sotto se vorreste vedere un video in cui approfondisco anche altri strumenti più avanzati per fare cartamodelli. Io spero che il video di oggi vi sia stato utile lasciate un mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale così non vi perderete tutti i prossimi video e sosterete anche il canale quindi grazie. Ci vediamo al prossimo video ciao ciao! Ciao!